Taranto, questione gazebo o deors per quanto riguarda, per quanto attiene le attività commerciali. Beh, a Taranto non c'è chiarezza e la cosa che più amareggia è che all'improvviso arrivi qualche provvedimento giudiziario nei confronti di chi cerca soltanto di fare attività commerciale, di creare lavoro e appunto di migliorare così l'immagine della città. Massimo rispetto per la magistratura che prende i dovuti provvedimenti, ci mancherebbe alto, sono provvedimenti sacrosanti. Massimo rispetto per la sovrintendenza archeologica e i relativi vincoli, però bisogna comprendere alcuni aspetti. C'è un proverbio latino che dice summum ius, summa inuria, cioè una legge esasperata nell'applicazione si rivela appunto una ingiustizia somma. Una applicazione troppo zelante della legge produce una ingiustizia appunto macroscopica. È quello che credo stia accadendo qui a Taranto perché quando si dà vita a un deorsa, a un gazebo che, lo ripeto, crea occupazione, fa lavorare tanti giova, tanti ragazzi e ragazze, tanti figli di mamma che viceversa consumerebbero le scarpe lungo via d'Aquino e via di Palma, dico per dire queste strade e per non dire tutte le altre, quando si migliora l'immagine della città, quando si combatte la desertificazione del borgo Umbertino, beh, credetemi, mi sembra davvero uno schiaffo. Ecco, io lo intendo in questo modo. Come dire, stare lì a pensare a questo gazebo, a quell'altro gazebo, a quell'altro, soprattutto poi quando ci sono delle realtà come questa, dei gazebo che non danno fastidio a nessuno. E mi viene da ridere quando sento dire che certe strutture potrebbero danneggiare l'immagine della piazza, l'immagine del continuum della piazza. Ma cosa stiamo dicendo? Ma cosa volete? Che la piazza immacolata, dico piazza immacolata come per dire qualsiasi altra piazza, debba diventare un deserto? Ma cosa volete? Che la città si svuoti più di quanto già si sta svuotando? A chi contesta queste strutture poi domando, ma avete mai girato l'Italia, non dico il mondo, avete mai visto i tanti gazebo, le varie strutture presenti, per esempio, a piazza San Marco, a Venezia? Dovete un po' forse aprire i vostri orizzonti. Ringraziamo invece questi operatori che mettono soldi, che mettono la faccia e che vanno anche incontro a situazioni giudiziarie poco piacevoli per fare commercio, per movimentare la nostra economia. Ripeto, massimo rispetto per chi prende le sacrosante decisioni, però occorre l'elasticità mentale. Quando manca questa, purtroppo, la città di Taranto è condannata, ripeto, condannata a diventare un deserto. Sarebbe forse più opportuno pensare a tante situazioni di abusivismo violento presente nella nostra città, piuttosto che pensare a questo o a quel gazebo che poi, alla fine, diciamocelo, non danno fastidio proprio a nessuno. Meditate, cittadini, meditate. Meditate Meditate Meditate